Buongiorno a tutti, torniamo a un altro panel organizzato da Fimi, a Federazione Industria Musicale Italiana di cui io sono il CEO. Oggi il tema riguarderà, tema più caldo di tutti, la rivoluzione dello streaming e come questa rivoluzione sta cambiando e modificando il mercato italiano in tutti i suoi aspetti. Io volevo dare in anteprima alcuni dati su quella che è stato l'andamento in questi mesi molto complessi sotto alcuni aspetti ma che dall'altra hanno visto lo streaming continuare la sua corsa, addirittura la crescita degli abbonamenti negli ultimi nove mesi è stata del 30% in termini di ricavi, il 10% è cresciuto lo streaming supportato dalla pubblicità, l'ad supported cosiddetto e del 15,4% i ricavi dai dal video streaming sostanzialmente il mondo di YouTube. Questa trasformazione ha fatto sì che il mercato italiano crescesse del 3,8% nei primi nove mesi nonostante un calo molto consistente sul mercato fisico che è sceso del 40% e del download che chiaramente sta continuando la sua discesa, è sceso di un ulteriore 25%. Oggi il sostanzialmente lo streaming rappresenta l'80% di tutto il mercato questi livelli di crescita tra l'altro si confermano in linea, anzi un po' sopra la linea forse di quella addirittura della crescita di contenuti e pubblicità secondo gli ultimi dati anche di Confidusa Digitale che parla di un 2,7 dati proprio lasciati ieri, su un mercato del digitale in Italia che in realtà è calato del 2% nell'industria. Quindi il settore invece del digitale musicale ha continuato la sua crescita come dicevo e siamo a una percentuale molto rilevante. A questo punto io introdurrei anche le persone che sono qui presenti con me e che sono, eccole i vedete, Carla Armogida di Spotify Italia, Enrico Pugni di Warner Music Italia, Paola Cattò di Sony Music Italia e Leonora Bianchi di Universal Music Italia. Quindi abbiamo diciamo tutte le persone che oggi all'interno delle aziende e della una delle principali piattaforme italiane di streaming si occupano di delle strategie e della definizione delle attività su questo importante segmento di mercato. Darei subito la parola tra l'altro a Carla perché Carla ci darà anche lei dei dati molto interessanti sia global sia su come sono cambiati anche un po' i consumi in questo periodo di pandemia. Carla a te la parola. Buongiorno, buongiorno a tutti. È un piacere per me essere qui oggi insieme ad alcuni dei partner con cui lavoriamo quotidianamente. Allora in questo momento storico più che di streaming revolution sarebbe il caso di parlare di streaming evolution. Di fatto i dati di quest'anno seppur particolare dimostrano una crescita del mercato in questa direzione. Nei primi tre mesi di questo 2020 infatti gli abbonamenti ai servizi streaming hanno avuto un aumento del 35% rispetto all'anno scorso toccando i 349 milioni globali. Spotify è stato uno dei motori principali di questa crescita con una contribuzione del 33% delle sottoscrizioni totali e un 30% delle revenue totali. Altro dato interessante gli ascoltatori mensili all'interno di Spotify sono aumentati del 29% rispetto all'anno scorso. Parlando di evoluzione da marzo in poi ovviamente abbiamo assistito anche un cambiamento di quello che sono le abitudini di ascolto dei nostri utenti. L'audio infatti ha avuto un ruolo da protagonista accompagnando tutte le nostre giornate così come la musica per bambini salvavita per i genitori e ovviamente la musica di workout e anche quella appunto di Chile e quindi anche di mood. Ma quest'anno ci ha imposto di rivedere anche quelle che sono le modalità di promozione e di marketing quindi di reinventare gli strumenti a nostra disposizione per garantire sia agli utenti che agli artisti di vivere un' esperienza comunque unica della musica on e off platform. E insieme ai partner che oggi sono qui presenti con me in questo panel abbiamo messo ad hoc delle campagne di cui sono sicura parleranno anche loro che hanno visto anche il coinvolgimento di tool, di strumenti come social, app, piattaforme di gaming, landing page, fino ad arrivare per esempio lasciatemi citare uno degli esempi più virtuosi che abbiamo fatto come Spotify in US con una landing page, un microsito che è stato messo ad hoc per disposizione di The Weekend per il lancio dell'album dove gli utenti Spotify collegandosi con il proprio account Spotify si trovavano davanti, vivevano questa esperienza unica trovandosi davanti The Weekend in versione ologramma che dava loro, comunicava loro e dava loro delle risposte in base ai dati di ascolto di quell'utente specifico. Siamo quindi parlando di una rivoluzione di tutto quello che è il concetto anche di marketing e strategie digitali. Lascio però comunque adesso la parola ai miei che sicuramente riscriveranno queste strategie meglio di me. Grazie Carla, tutto molto interessante tra l'altro lanciarei subito anche Enrico, questa trasformazione del mercato globale di cui ha parlato Carla in realtà è una trasformazione anche di un mercato come quello italiano che negli anni era stato sempre un po' più indietro. Quest'anno noi abbiamo fatto un salto in un panel di qualche giorno fa con i presidenti delle major, abbiamo visto come a dicembre 2019 lo streaming rappresentasse il 67% del mercato e a giugno fosse arrivato all'80%, un salto epocale per un mercato, quello italiano che tradizionalmente ha avuto sempre ancora delle difficoltà ad affermarsi su questo segmento digitale. Enrico? Sì, ciao, ciao, buongiorno a tutti e grazie per questa finestra, per questa vetrina. Io mi aggancio a quello che ha appena raccontato Carla e anche a quello che stava dicendo poco fa Enzo, è indubbio che c'è stata un'accelerazione improvvisa e immediata dello streaming all'interno di un mercato che dall'altra parte in termini di investimenti e in termini di quello che è l'output verso il pubblico, verso i consumatori è mutato improvvisamente. Il lockdown di fatto ha accelerato l'ingresso di nuovi target sui social e in particolare nello streaming audio e video. Alcuni dati, il tempo speso online durante il periodo della pandemia sin dall'inizio è aumentato di circa l'81% e nel 2020 ad oggi noi contiamo circa un incremento di 4 milioni di nuovi utenti online. Di fatto quello che è accaduto è stato soprattutto nella parte iniziale ma che prosegue ancora ora è uno stop completo degli eventi e anche una riduzione progressiva di quello che è la possibilità di advertising tradizionale, quello che viene chiamato l'autofom, soprattutto una parte iniziale del 20%. Noi ci siamo di fatto poi trovati a ripensare insieme in partnership con le piattaforme digitali, in questo caso in particolar modo insieme a Spotify, a tutte le strategie che noi generalmente mettiamo in campo per amplificare il messaggio in vista di uscite di nostri prodotti, sia nuovi prodotti che release di catalogo. In particolare io vi porto tre semplici esempi. Il primo riguarda la strategia che noi abbiamo attuato per l'uscita di 1990 di Achille Lauro. In generale il 2020 è stato un periodo in cui sin dall'inizio c'è stata un'ondata di ritorno degli anni 90 e cogliendo questa sensazione, questo mood che si stava presentando abbiamo pubblicato ovviamente insieme all'artista il suo nuovo album 1990 il 24 luglio, quindi all'inizio, nella fase iniziale dell'estate insieme a una serie di artisti che poi hanno partecipato nelle tracce da Galica Pruplazza, Annalisa, Gemita, It's Massimo Pericolo, fino a Alexia, IFL65, Beni Benassi, quindi diverse generazioni che parlano a diversi target proprio perché c'è stato un affaccio e un ingresso sempre maggiore di pubblici diversi all'interno dello streaming. Tutto questo lo abbiamo fatto in partnership con Spotify andando a presidiare soprattutto attività di visibilità e attività di advertising sui social online, sia attraverso dell'attività on platform all'interno di Spotify che appunto facendo della TV. Tutto questo attraverso poi un percorso preparatorio avendo lanciato una playlist di attesa che abbiamo chiamato 1990 Back to Dance. Questo ci ha portato immediatamente ad avere un debutto al numero uno della classifica e ad avere tutti i brani in top 100 di Spotify al debutto immediatamente. Il secondo esempio, caso specifico che vorrei portare è un esempio di, chiamiamolo, localizzazione, che è un termine super abusato, ma che di fatto ha avuto una spinta improvvisa e molto forte durante il periodo della pandemia e sto parlando del fenomeno di Gerusalemme, che è un brano che inizialmente è stato lanciato sul mercato in Sudafrica nel novembre del 2019, quindi in periodo diciamo di mercato natalizio. È successa una cosa molto curiosa che a febbraio del 2020 un gruppo di teenager dell'Angola hanno caricato su TikTok un videoclip in cui ballavano questo brano e questo video è diventato improvvisamente virale. C'è stata una contingenza storica, diciamo, di mood, è diventato virale contemporaneamente al progressivo lockdown che stava accadendo nei diversi paesi in giro per il mondo e il brano ha seguito anche in parte questo percorso. Quindi in quel caso noi ci siamo trovati ad accompagnare la crescita di un brano che in qualche modo aveva un ruolo di comfort music, se possiamo definire quel tipo di esperienza. Quindi in realtà tutto questo ha portato un brano che fino a un anno prima era un fenomeno prettamente locale, a un fenomeno globale, un paio di numeri. In un anno il brano ha fatto il più 48 mila per cento di stream su Spotify e progressivamente è andato al top di tutte le classifiche. Cosa curiosa è che spesso quando si entrava nella classifica di Spotify si poteva vedere che il brano era presente con diverse versioni. Quindi questo testimonia ancora di più quanto la possibilità dello streaming dia all'utente l'opportunità di poter scegliere quale brano ascoltare e quale brano preferisce. L'ultimo punto che ci premeva, che mi premeva portare all'attenzione è la forza che questo periodo di pandemia ha dato anche alla rivalutazione del catalogo in streaming. L'esempio che porto è quello di Dreams dei Fleetwood Mac, che è un brano che è uscito nel 1977 e succede che è nel febbraio, nel settembre di quest'anno, dopo 43 anni, uno skater americano, uno skater se non sbaglio di Detroit, carica su TikTok un video in cui va sullo skate, beve del succo di mirtillo con questo brano in sottofondo. Il video diventa immediatamente virale e viene imitato dai top influencer e contemporaneamente il brano riesce a raggiungere più di 2 milioni e 600 mila stream giornalieri su Spotify. Questo a testimonianza del fatto che c'è stata un'accelerazione anche di ingresso di nuovi target all'interno vuoi delle piattaforme che attivano i brani come TikTok e di riflesso su tutte le piattaforme di stream. Grazie Enrico, sì, veramente interessante che questa cosa, io l'ho seguita, è stata clamorosa. Paola, anche voi avete in questo periodo di pandemia vi siete un po' reinventati con diverse operazioni sia globali che locali e soprattutto anche con multipiattaforma, anche qui con effetti interessanti. Raccontaci un po' anche la vostra esperienza. Sì, buongiorno a tutti, grazie Enzo. Devo dire che la prima cosa che mi sento di condividere è come quest'anno sia stato sì un anno che ci ha dato l'opportunità nella difficoltà di sperimentare a tutti i livelli la nostra creatività su tutti i fronti del nostro lavoro a partire da una riorganizzazione a tutti gli effetti delle modalità, dalla produzione che si è trasferita in streaming, artisti stavano in studio, poi i produttori dare moto e si collegavano in streaming, a tutti noi che abbiamo cercato di, da un lato prima di tutto, di capire che cosa stava succedendo. Sottolineo che per noi i primi mesi del lockdown sono stati un'occasione di anche fare nella sfortuna da osservatorio privilegiato per quello che sarebbe accaduto negli altri paesi a livello di comportamenti di consumo. Partirei da questo, da raccontare come abbiamo osservato e Carla prima di tutto e anche Enrico hanno raccontato come ci sono stati degli cambiamenti importanti sul fronte del consumo digitale che non hanno riguardato ovviamente solo lo streaming della musica ma in generale un incremento di consumi di contenuti video, di contenuti sui social e un incremento in particolare anche di consumo di contenuti sulle piattaforme di gaming. Si parla in Italia di un aumento nel periodo di lockdown dei consumi su Twitch tra il 30 e il 50 per cento rispetto diciamo al periodo precedente e quello che è anche successo è che su Twitch si è iniziato a parlare di musica mentre prima era il gaming diciamo il contenuto e i canali di gaming erano i contenuti a diciamo più frequentati. Durante il lockdown sono cresciute le conversazioni anche sulla musica. Quindi in fondo questo reinventarsi è stato anche un capire come si poteva evolvere e creare un nuovo engagement intervento del fatto che le persone fossero chiuse in casa e che non potessero più avere le loro abitudini quotidiane ma anche delle convergenze di pubblici e anche di canali. Quindi parlo per esempio del fatto che c'è una forte convergenza di pubblico tra chi gioca a determinati videogame e ascolta musica urban. infatti il caso sicuramente a cui ti riferisci Enzo Globale di cui si è parlato moltissimo quest'anno è stato il concetto su Fortnite, uno dei più popolari giochi del genere battle royale di Travis Scott. diciamo nel contesto di una moltiplicazione degli eventi in live streaming che ha caratterizzato questo lockdown, eventi anche molto do it yourself, ognuno poteva fare un live streaming da YouTube piuttosto che da Facebook o da Twitch appunto, da un'altra parte sono emerse delle iniziative dove c'è stato un livello di qualità in produzione del contenuto molto elevato, anche Carla stava appunto raccontando l'esempio di The Weeknd, si tratta ovviamente di produzione di alto livello, quale è stata per esempio quella di Travis Scott e Fortnite. La caratteristica speciale di questo evento è stata che non era semplicemente un concerto come già erano stati fatti su questa piattaforma, ma la realtà del videogame è stata letteralmente trasformata e sospesa per ospitare un'esperienza immersiva dove i giocatori potevano, grazie anche a un grande lavoro di programmazione che ha utilizzato anche l'intelligenza artificiale, interagire nello spazio del gioco trasformato per ospitare questa performance inedita di Travis Scott che in questo spazio, in questo mondo, all'interno del mondo di Fortnite è creato opposta per lui, ha presentato per la prima volta due singoli debiti. Questo è stato un best case per Fortnite a livello globale, si parla di più di 27 milioni di utenti in simultanea ad assistere a uno dei due concerti, ma soprattutto ha avuto una ricaduta su numerose altre piattaforme. Solo in Italia 5 milioni di views singoltanee su diversi canali YouTube e di influencer che hanno ripreso l'evento, senza contare poi anche per esempio i live stream su Twitch. La cosa interessante è sicuramente raccontare la ricaduta che questo ha avuto sullo streaming. Un artista come Travis Scott, che è una superstar globale, in Italia non aveva sicuramente numeri paragonabili a quelli che per dire poteva avere negli Stati Uniti. Nei giorni successivi a questo grande evento, oltre ad aver scalato le classifiche di Spotify, ha anche raggiunto numeri circa più 700 mila listener sulla piattaforma rispetto al periodo precedente. Quindi un esempio decisamente di convergenza di formati e delle opportunità di questa evoluzione streaming che ci sta dando. Per parlare sempre di gaming vorrei citare un caso di collaborazione con Spotify per un artista italiano. Come raccontavamo ci siamo tutti a reinventare letteralmente e in questi anni abbiamo anche un po' iniziato i nostri fan su Spotify a poter incontrare i personaggi artisti e vivere delle esperienze esclusive. Nel reo di lockdown ci siamo chiesti come possiamo fare vivere delle esperienze uniche che non sia solo ascoltare un album, ma veramente interagire con l'artista, date le restrizioni che viviamo. L'idea che ci è venuta in particolare per il lancio dell'album di Nine Five, che fa parte della crew di Macete, che è una delle prime crew di rapper in Italia ad avere anche fondato una squadra di gaming, che si chiama Macete Gaming. Quindi parliamo di un'artista che è gamer e di un'artista e cui fan sono gamer. Abbiamo pensato di creare un preascolto dell'album in simultanea a un torneio online di FIFA. Quindi i fan che avevano presalvato l'album su Spotify potevano tutti assistere a questo evento in diretta anche sul canale Twitch di Macete e alcuni di loro hanno potuto gareggiare e interagire in un'esperienza interattiva online. ma disponibile però poi per tutti in streaming e ascoltare l'album insieme a Nine Five. Insomma, questo è solo uno degli esempi di come abbiamo cercato di, insomma, ingaggiare il pubblico e un target in particolare. Ma mi piace, per raccontare un caso invece un pochino diverso, per descrivere anche come giustamente non si tratti solo di pensare a come lanciare un album, ma anche di come intrattenere le persone che si sono trovate chiuse in casa e che ascoltano musica, ma che magari si trovaranno ad ascoltare in un modo differente. Però se tutte le abitudini quotidiane, il completing, l'andare a scuola, l'ascoltare la musica in macchina erano le nostre volte, dall'altra parte le persone ascoltavano musica magari per fare il workout o le pulizie di casa, che è uno use case che è emerso anche dal Music Listening Report di IFDI. Quindi abbiamo creato delle collaborazioni con alcuni personaggi, diciamo, di riferimento, in particolare cito un'attività fatta con Antonio Lorenzone, che è il vincitore dell'ultima edizione di Masterchef Italia, che ha sul suo canale, sul suo profilo Instagram, regolarmente intrattene i suoi follower condividendo delle ricette, ovviamente insomma quello che gli sa fare bene, e che è diventato testimonial della nostra playlist cucinare con la musica nel periodo del lockdown, per cui nel proporre delle ricette nel periodo del lockdown le persone che a casa fondamentalmente cucinavano tutti, noi abbiamo cucinato molto di più, proponeva anche i suoi ascolti musicali preferiti, che poi atterravano su una playlist creata ad office. E una simile attività l'abbiamo fatta con Workout, un'altra playlist Sony che si chiama Valesha Motivation, dove la ginnasta Carlotta Perlito accompagnava i suoi workout su TikTok e su Instagram, con alcune canzoni scelte insieme, sempre per poi atterrare e offrire agli utenti la possibilità di ascoltare una selezione dedicata per fare un workout anche loro a casa. Quindi abbiamo pensato ovviamente un po' anche alle situazioni di vita delle persone e capito e immaginato come potevamo ingaggiarli con la nostra musica. Bene, questo è anche un aspetto molto interessante perché certamente il digitale ci ha offerto delle incredibili opportunità per saltare diciamo su situazioni e cavalcare situazioni anche con una rapidità notevole. Ecco, Eleonora, grazie di essere qui, intanto immagino che voi siamo diciamo alle ore precedenti il lancio di probabilmente l'album più importante dell'anno del paese. Quindi possiamo immaginare come siete sotto questione. Rascoltaci un po' intanto invece questi mesi, come sono andati e quali sono le vostre iniziative particolari. Guarda, questo può essere un esempio, innanzitutto, buongiorno a tutti, è effettivamente riferimento all'uscita dell'album di Sfera e Basta che appunto è proprio tra qualche ora e ci ha visto grandemente in difficoltà in una fase innanzitutto di capire quando far uscire determinati album perché come appunto è un po' emerso dalle discussioni di tutti ma si può facilmente capire in certi casi soprattutto nell'inizio della fase della pandemia ci chiedevamo quanto fosse, come dire, sensato quanto avesse senso non solo per il mercato, perché comunque per quanto noi rappresentiamo la parte digitale la parte digitale è quella più in crescita, preponderante, per cui comunque il nostro mercato non ha sofferto eccessivamente della situazione, però il fisico ha comunque la sua importanza e questo è chiaramente la situazione attuale, soprattutto quella che era in marzo e aprile aveva portato addirittura a un blocco completo della venta del fisico. Quindi questo era già un primo, come dire, scalino, elemento di complessità per gli artisti e per noi nelle pianificazioni e nella scelta di dire l'iso o meno di un progetto. In questo caso, per esempio, un progetto grosso con delle ambizioni internazionali come quello di Sfera e Basta chiaramente è stato dovuto essere rimandato, ripensato e come anche Carlo ha potuto testimoniare che tutte le nostre strategie fino all'ultimo minuto si sono un po' trasformate e le abbiamo dovute rivedere, riadattare a quella che è la situazione sia a livello di comunicazione sia proprio a livello di attività che possono essere fatte. Come diceva Paola, giustamente negli anni abbiamo sempre fatto cose più grosse e ci piace, insomma, ci piace pensare che l'industria discografica sia anche quella un po' più innovativa dal punto di vista dei lanci, cercare di fare sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di più grosso. E rimanendo sull'online, che è sostanzialmente quello che ci è rimasto, alla fine, insomma, le possibilità si sono già un po' tutte viste, come dicevano Paola e Enrico, la parte di gaming, la parte video, la parte social, è stato usato un po' tutto, anche noi all'inizio non sapevamo un po' come muoverci, e quindi quei primi lanci, giusto per citarvi, due album che comunque, dopo un primo periodo di incertezza, abbiamo deciso di far uscire comunque, anche perché appunto il fisico aveva un po' ripreso, le spedizioni erano ripartite, che sono quello di Ernia e quello di Due Pechenio, anche lì la chiave di trovare la chiave di comunicazione giusta nel caso di Ernia, quello che poteva essere un release part è stato sostituito da una live su YouTube molto ben organizzata, che sembrasse proprio un concerto vero e proprio, perché c'è comunque anche questa parte del live che manca soprattutto ai fan, ma anche tanto agli artisti, e quindi diciamo che era un modo per farlo esprimere lo stesso e per presentare lo stesso, il suo album in qualche modo, abbiamo visto dei risultati allucinanti, incredibili, mai pensati, chiaramente prima del lockdown, anche i volumi del consumo video, soprattutto su YouTube, sono veramente schizzati alle stelle, quindi è stato qualcosa che è caduto nel momento giusto, diciamo. Per il disco di Due Pechenio invece, sempre in collaborazione con Spotify, pensavamo di fare qualcosa che non fosse, come dire, che uscisse un po' dalla comunicazione social, ma questo sa che abbiamo creato una app dove tramite la virtual reality gli utenti potessero, come dire, vivere una vera e propria esperienza, come diceva Paola, tutti abituati ad avere un contatto con l'artista, avere qualcosa di speciale proprio perché follower, pre-saver, eccetera, eccetera, dell'artista super fidelizzati, in qualche modo siamo riusciti lo stesso a garantire non tanto un contatto vero e proprio con l'artista, che chiaramente non si può avere, ma quantomeno all'accesso a qualcosa di esclusivo, come potessero essere degli spoiler, delle notizie in anteprima di un disco, per esempio. Tutto questo, insomma, si è andato anche un po' a accompagnare da trend nuovi, come diceva anche Enrico, come possono essere l'esplosione dell'utilizzo degli smart speaker, questo legato a qualunque genere tipo di piattaforma streaming. Certo, chi ha una piattaforma proprietaria, vedi Amazon, ha visto il proprio servizio, come dire, quasi nascere perché è praticamente quasi sconosciuto prima di questo lockdown al grande pubblico, e allo stesso tempo anche servizi come Spotify abbiamo visto crescere enormemente tutti gli stream provenienti dagli smart speaker di Google, per esempio, la fonte principale praticamente di stream nel periodo del lockdown è una delle fonti, diciamo, è stata anche quella derivata dal voice, cosa pochi mesi prima impensabile. E oggi come oggi ci ritroviamo appunto a ripensare a strategie come quella di Sfera, che era un po' in un'ottica, diciamo, ci sarebbe piaciuto farlo in altro senso, però insomma, diciamo che ci siamo adeguati alla situazione, a poche ore dal lancio non possiamo che non essere contenti, ecco. Grazie Eleonora. Allora, abbiamo solo 15 minuti e dovremmo stare ancora dentro tutti in un secondo giro, quindi vi chiedo di essere veloci nelle risposte. Sono arrivate delle domande, che a questo punto utilizzerei direttamente. una, subito a Carla, è l'intelligenza artificiale, ecco, come contribuisce, se ha il sopravvento, oppure in realtà è una parte importante della cooperazione tecnologica all'interno delle piattaforme. Questo potrebbe essere, anche qui, una risposta su come ha implementato questi strumenti. Lo streaming, il digital è in continua evoluzione, quindi vi posso assicurare che nei prossimi mesi, nel prossimo anno, ovviamente aggiorneremo la nostra app, porteremo nuove future sul tavolo, quindi è una questione di, proprio come dicevo, di continuo adattamento e cambiamento. Enrico, l'altro giorno c'è stata una domanda, anzi una considerazione durante un panel sullo streaming, sulla cosiddetta tirannia delle playlist, come se oggi questa omologazione, in qualche maniera, è che qualcuno paventa fosse generata dalle playlist e forse il consumatore fosse indotto solo ad ascoltare ciò che gli viene proposto alle playlist. In realtà sappiamo che tutto questo mondo è molto nelle mani invece dei fan che consumano un po' quello che ritengono anche loro di consumare, questo è stato anche il successo di alcuni generi musicali. Non so, cosa ne pensi? Guarda, il termine tirannia mi sembra un po' forte, perché poi implica una scelta imposta con violenza, in generale la tirannia, quindi, e mi ricorda anche un po' il discorso della dittatura sanitaria che sta girando ormai da qualche mese, no? In realtà io credo che i fatti, i dati, dimostrino una realtà molto più complessa, tant'è che le stesse piattaforme di streaming, lo stesso Spotify, quando nacque non aveva una parte di curation musicale. Era aperta assolutamente la creazione delle playlist da parte degli utenti, quindi poi io credo che poi delle situazioni di scelta, di veicolazione, di alcune cose, sia una naturale evoluzione delle cose, ma anche una richiesta naturale che c'è anche da parte degli utenti che si trovano di fronte ad un catalogo, non dico immesso, c'è tutto, nel senso che c'è tutto online, disponibile legalmente, quindi parlare di dittatura mi sembra effettivamente eccessivo. Al di là di tutto il lavoro che viene fatto in termini di organizzazione di una proposta musicale, c'è un grande lavoro che viene fatto alle spalle da noi stessi, insieme alle piattaforme, insieme ai vari partner, per far crescere l'audience di artisti. Ci sono strategie di cui abbiamo parlato tutti quanti poco fa, che mirano proprio a creare una connessione sempre più forte tra artisti, una proposta e il pubblico. Ma anche l'esempio che ho portato prima, quello di Gerusalemme, dimostrava che al di là del tipo di traccia che veniva playlistata, c'erano tantissime versioni in classifica, non parlo solo d'Italia, parlo di tutto il mondo. Eleonora, un'altra domanda, questa è un po' anche interessante. Se con il live streaming, tu hai parlato prima appunto anche di queste iniziative che sono state fatte da alcuni artisti, c'è la possibilità di fare sempre di più anche della sincronizzazione con il merchandising, nel senso che il merchandising era un aspetto fondamentale del live, se questo ha delle prospettive anche sul fronte del mondo del live streaming o delle iniziative anche solo virtuali che ci sono oggi. Assolutamente sì, e ti direi che questo è uno degli aspetti forse più interessanti, anche qui, digital diciamo di traverso, però comunque assolutamente legato, è un po' il mondo del D2C, per noi diciamo case discografiche, in Italia diciamo non abbiamo ancora ben esplorato secondo me questo aspetto, e in realtà proprio, posso parlare per Universal, abbiamo proprio approfittato di questo periodo per accorgerci di quanto è importante avere un canale diciamo diretto, proprietario. Dal nostro punto di vista digital è super importante soprattutto dal punto di vista diciamo di data collection, dei dati di prima parte che si possono portare a casa con queste attività. Dall'altro punto di vista, dal punto di vista degli artisti, è chiaramente fondamentale perché piattaforme come YouTube sempre di più favoriscono l'integrazione anche proprio di spazi per la vendita del merchandising anche legate a queste attività di live, allo stesso tempo anche le nostre attività, per esempio anche attività legate con vari partner, ci permettono di focalizzarci sempre di più sulla vendita del merch e di edizioni speciali di dischi, quindi di attivarci molto l'auto di Tussiego, è qualcosa su cui dobbiamo pensare sempre di più perché chiaramente è un'enorme mancanza per gli artisti, per il mercato in generale. Lascio immaginare non avere un tour di Tiziano Ferro, Vasco Rossi in un anno che a livello di merchandising chiaramente portano dei numeri molto interessanti quanto possa influire e essere importante sia per noi ma soprattutto per gli artisti. Paola, qui c'è una domanda molto rilevante in cui non abbiamo parlato tanto però è un tema interessante. Quanto sono importanti oggi i dati, le analisi di dati e soprattutto se avete creato delle figure all'interno di data scientist o data analyst nel gruppo proprio per studiare questi miliardi di terabyte che arrivano di dati ogni settimana, ogni mese dalle varie piattaforme, non solo quelle di streaming chiaramente ma tutte. stiamo vedendo delle ricerche dell'osservatorio Digital Innovation su HR e su quali sono le figure più ricercate in generale across the industries, le figure professionali. si parla ovviamente di musica e lavoro quest'anno in questa edizione della Music Week e non solo per la musica ma chiaramente una delle figure più richieste date dalla Digital Transformation è chiaramente quella di tutto quello che gira intorno all'analisi dei dati quindi dalle figure di business intelligence in generale ai data scientists, data architects è sicuramente una delle figure ormai più richieste anche della nostra industria in generale dell'industria del digital entertainment che come recita il titolo anche di questo panel questo passare dal possesso all'accesso significa letteralmente dover continuare a leggere e guidare in qualche modo i comportamenti del consumatore a partire da tonnellate come è ben detto di dati per cui sì, in Sony a livello global esiste un gruppo dedicato ovviamente al business intelligence e all'analytics e anche Sony Music Italia è integrato una unit dedicata necessariamente a questo e oltre al consumo in sé chiaramente ci permette anche di aggiungere intelligence sul fronte del marketing, non sono tante le tematiche relativi ai dati da un lato perspartigata come ci diceva Eleonora quindi poter tramite anche CRM riuscire a comunicare in modo anche automatizzato il consumatore, da un lato poter leggere in modo sempre più preciso anche le nostre azioni di marketing che ricadutano sullo streaming e dall'altra parte individuare la strategia migliore per i singoli artisti andando a leggere i comportamenti del loro pubblico potenziale sui social e sui sociali, quindi è chiaramente uno dei grandi temi per tutti noi abbiamo ancora qualche minuto, quindi sono arrivato ancora, arrivano molte domande allora una per Carla, chiedono se si è parlato del video streaming anche di Spotify, se ci sono delle notizie sulle future iniziative sul segmento video no, definitivamente no, la nostra è una parteforma focalizzata sull'audio, sulla musica e lavoriamo affinché questa esperienza sia ogni volta migliorata per il momento il video non fa parte di questo abbiamo ovviamente dei tool, delle future dentro la piattaforma che si avvicinano al concetto anche del visual come per esempio i canvas e abbiamo anche dei piccoli video che accompagnano alcuni video e qualche album come le Nels ma il concetto di video live streaming è lontano in questo momento la nostra piattaforma Enrico, qui un'altra domanda invece sull'estero questo quanto oggi attraverso lo streaming si può pensare globale ecco, questa è una domanda che richiederebbe due ore però devi stare esattissimo esatto, quanto, tantissimo la risposta è tantissimo nel senso che lo streaming ha rafforzato quelle che erano connessioni che già esistevano prima ma ha rafforzato la possibilità di vedere in tempo reale risposte di audience in diversi paesi su uscite che normalmente si possono pensare come destinate solamente al mercato locale è fortemente dettato questo tipo di discorso anche dal genere Rapp ovviamente che ha anche lui ha dato un accelerato ormai da diversi anni a questa tipologia di approccio e di risposta soprattutto mettendo in connessione delle realtà molto locali specifiche tra di loro lontanamente molto distanti a livello geografico ma ha permesso di creare delle connessioni proprio culturali lo vediamo soprattutto appunto sulla musica Rapp su un target, una fascia d'età molto giovane il discorso che stiamo notando e notiamo sempre di più è il fatto che si crei questo flow continuo indipendentemente dal linguaggio anzi è uno step in più uno step dove spesso un flow musicale di una piccola realtà magari anche di provincia parla lo stesso mood, lo stesso tipo di linguaggio e crea la connessione tra gli artisti gli artisti si sentono sempre di più direttamente tra di loro grazie al fatto che si scoprono anche su Spotify tutto questo si accompagna poi a quello che diceva ovviamente Paola riguardo alla disponibilità di dati il dato ti permette, il dato in tempo reale ti permette appunto di vedere cosa succede e quali sono le reazioni e lo stesso tipo di dato ti permette poi di avere un linguaggio comune e una cultura comune da condividere sia all'interno dell'azienda sia con gli artisti, con i management ma anche con gli stessi nostri partner streaming Eleonora, qui ho un'altra domanda che facciamo a te forse in parte avevi risposto prima avevi già parlato di questo tema se qualcuno ha suggerito che gli artisti non avrebbero dovuto pubblicare album senza la possibilità di fare concerti invece questo poi si è dimostrato un importante invece pezzo del mercato in questo momento visto anche i numeri che tutto sommato sono positivi quindi la risposta è già lì però sentiamo è qualcosa in realtà su cui noi ci siamo interrogati chiaramente in un momento in cui il fisico era completamente bloccato e come dire anche come dire, moralmente suona male però insomma sembrava brutto andare a annunciare o uscire con delle call to action un po' superficiali in un periodo di grande confusione e chiaramente difficoltà per tutto il paese detto questo, una volta razionalizzata la situazione organizzata di più la situazione e col fisico operativo anche per gli artisti chiaramente non ha molto senso bloccare tutto il processo anche perché purtroppo non abbiamo un'idea della fine di tutto questo quindi ci stiamo adattando a qualcosa su cui non possono pensare di stare fermi due anni, tre anni sarebbe una grossa perdita soprattutto per loro Paola, un'altra domanda questa sicuramente interessante è podcast in competizione o integrazione invece dell'industria discografica? Guarda, direi che la parola chiave qui è convergenza ne parlavo anche prima è già in atto servizi come Spotify Carla stava dicendo noi siamo la piattaforma audio quindi integrano già l'esperienza di ascolto di musica e podcast questa cosa è successa anche su Amazon in alcuni paesi e sicuramente tra Sony a livello global e a livello local rappresentare un'eccellenza e avere una leadership anche in questo è importante il nuovo settore e questa nuova tipologia di contenuto offerto sui servizi streaming è chiave quindi convivono e soprattutto devo citare che come Sony proprio durante il lockdown abbiamo lanciato un nuovo progetto che nasce dalla sinergia tra noi e l'agenzia indipendente di comunicazione MN che ha proprio come obiettivo lo sviluppo di contenuti e podcast che già sono presenti sul mercato in streaming e che non riguardano solo la musica ma vanno a toccare anche già vari altri generi e qualche giorno fa è la notizia Sony a livello global lancerà in US 100 nuovi podcast original nel corso del prossimo anno per cui è chiaramente un grande focus è un nuovo terreno di sperimentazione per noi che sicuramente abbiamo un'importante expertise sull'audio Bene direi che siamo stati perfettamente nei tempi e a questo punto ringrazio tutti voi che siete intervenuti avete dedicato il tempo a questa Milano Music Week e spero che le persone che hanno seguito questo panel abbiano trovato interessante ritroverete tutti questi panel poi su il canale della Milano Music Week su YouTube quindi la possibilità di approfondire per tutti coloro che fossero interessati rimangono a disposizione grazie ancora e un saluto a tutti e grazie ancora a tutti voi grazie 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 a tutti